Ciao amici di Italia Top Games, oggi parliamo di FIFA 19 perché c'è un fortunato, un fortunatissimo che ha avuto la possibilità per noi, per Italia Top Games, di vedere e provare. L'hai pure provato Rudy, vero? Sì, sì, provato, provato. Bene, ecco allora adesso nessuna sorpresa. Il nostro Rudy Salerno è stato la presentazione ufficiale italiana di FIFA 19. Ciao Rudy. Ciao Fabrizio. Allora, allora, dai, dici tutto su FIFA 19, tutto, quasi tutto, alcune cose non ne possiamo parlare fino ad agosto, ma vabbè, avremo modo. Comunque, hai provato FIFA 19, dici subito la cosa che ti è piaciuta di più, cosa è cambiato maggiormente rispetto al 18 e l'aspetto invece che così si può ancora migliorare. Allora, la cosa che mi è piaciuta di più è stato il contrasto dei giocatori, perché il pallone, quando tu sei in un impatto, quando tu sei uno contro uno, il pallone non sa mai dove va, dove vai. Nell'intervento, nel contrasto, eccetera, è una nuova novità, 50-50 battles, quindi non si sa mai dove va il pallone. E come è stata implementata questa cosa nel gioco? Esattamente, proprio nel gameplay, tu percepisci che non hai il controllo del pallone, cioè un contrasto non sai mai se lo vince il difensore o lo vince l'attaccante, poi se c'è una deviazione che la palla schizza da un'altra parte o dall'altra, quindi vedremo varie rimpalli di rigore, qualche mischia, è già successa giocando. Ok, quindi immagino che ci sia un certo tipo di realismo da questo punto di vista, con questo nuovo elemento. Esattamente, sì, esattamente. Poi vabbè, c'è la licenza della Champions League che ormai ha acquistato da PES e ci sono delle novità importanti. Come hai percepito questa novità della Champions League? Come è stato implementato in FIFA a livello di atmosfera, di cori? E il problema di FIFA è stato del trasferimento di Ronaldo, perché loro avevano tutto programmato di Ronaldo sul Real Madrid e anche sul fatto del viaggio. Loro vedremo cosa faranno con il viaggio, perché si parlava che c'era una parte del viaggio implementata con Ronaldo e Real Madrid e vediamo cosa faranno su questo aspetto della modalità del viaggio. Poi sulla Champions League, nella presentazione c'era proprio Ronaldo con la maglia del Real Madrid, c'era proprio tutta l'atmosfera stadio, che c'era Ronaldo che faceva risultanza, ma veramente molto bella. Tutta la parte dello stadio, del contorno, che ma anche in PES, ovviamente. Certamente, ma come dire, hai notato qualche leggera differenza rispetto a come era implementata in PES l'atmosfera della Champions o più o meno siamo lì? Graficamente è quella lì, Fabrizio, graficamente. Poi loro faranno le sfide varie di giro, semifinali, semifinali e finali. Poi metteranno loro qualche modalità. Poi sarà implementata in altre modalità, la Champions League e l'Europa League anche, perché hanno tutte le due le tue. Da un punto di vista grafico, il gioco ovviamente come i giochi annuali non è che cambiano tantissimo, però rispetto al FIFA 18 cosa hai notato in particolare, oltre appunto a questo discorso del gambling. Ok, allora, a livello di gameplay, informazioni, eccetera, hanno implementato la modalità che tu puoi, vabbè, hanno preso un spunto da Prevolution Social, che tu hai, come si chiama, i settaggi difensivi e offensivi che tu puoi bilanciare la squadra. E inoltre tu, quando tu passi da bilanciato ultraoffensivo, puoi cambiare direttamente il modulo. Tu puoi partire da un 4-4-3 bilanciato a un 5-3-2 modalità difensiva, senza che tu premi start e vai in pausa a cambiare modulo. Questa è una novità che mi è piaciuta assai. Ok, ok, quindi una possibilità di cambiare rapidamente il modulo senza dover fare nulla nel gioco principale. Dai, qualche altro feedback che hai percepito sia tu o sia quello dell'atmosfera con i giornalisti, con i rappresentanti dei media, come è stato percepito FIFA 19? No, è stato percepito bene, il salto della licenza è un gran passo per FIFA, purtroppo quello che manca alla concorrenza. Poi un'altra cosa che mi ha colpito sono i fatti dei tiri, che se tu sei proprio sbilanciato, cosa? Tiri delle ciofeche, cioè devi essere proprio coordinato il giocatore, quindi è una cosa ancora… si sente maggiormente la precisione del corpo quando impatta il pallone, anche sui colpi di testa, eccetera. Questo mi è piaciuto molto in FIFA. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta in FIFA è stata la fase d'attacco, è spettacolare. Quando tu giri i palli e tutto, giri i palli alla squadra, attacca, attacca. Sarà un problema per le difese e imparare a difendere. In FIFA 19 si dovrà imparare a difendere, sicuramente. Certo, certo. Un'ultima domanda, sei riuscito a capire qualcosa sulle licenze, la serie A, queste cose qui? No, nessuna, nessuna, niente, niente. Quindi questa indiscrezione della Gazzetta e lo Sport di qualche settimana fa è ancora in bilico, non si sa se avremo la serie A o meno in FIFA 19. Va bene, va bene. Vuoi aggiungere qualcos'altro su questo tuo test con FIFA? Beh, no, aspettiamo il testimonio che dovrebbe essere Ronaldo con la maglia della Juventus, però non c'è nulla di ufficiale ancora, ho sbaglio Fabrizio. Beh, va bene, ma questo è sicuro che ci sarà. Sicuramente sai. Per la tua felicità, un po' meno per la mia, però diciamo che... Va bene. No, ma sicuramente, dai, adesso al giorno della presentazione, Cristiano Ronaldo, FIFA, ha fatto vedere appunto per la prima volta Cristiano Ronaldo con la maglia della Juve. E come è successo qualche anno fa con Bale, quando passò dal Tottenham, giusto? Dal Tottenham a Real Madrid si trasferì Bale, giusto? Sì, sì, giusto, giusto. Giusto, ecco. Sicuramente sistemeranno tutto per quando il gioco uscirà, quindi ci sarà Ronaldo sicuramente con la maglia della Juve. Chissà se Neymar dovrebbe essere ancora con quella del PSG per la versione Champions. E quindi sistemeranno tutto, dai. Bene, ringraziamo Rudy Salerno che ha avuto la possibilità di provare in anteprima FIFA, chissà quando uscirà il demo, secondo me, a settembre. Tu che ne pensi? Sì, pure secondo me, prima di settembre. Oppure in comunicanza con il gioco di PES. Eh, io penso proprio di sì. Per fare il gioco delle parti. 30 agosto o poco dopo. Bene, grazie Rudy e alla prossima chiacchierata che tanto ne faremo altre nei prossimi giorni. Ok, grazie a te. Ciao. Ciao. Ciao.